Vediamo che il mister esita a fare entrare Scopolino, si sta raffreddando Scopolino, il mister raccomanda la calma e ora finalmente c'è la decisione, entra Scopolino, l'ultima speranza del castello. Ha un cerotto all'inocchio, all'altezza dell'inocchio, che non si sa che funzioni può avere. Esce Fausto, uno dei migliori, ma non esce Fausto, che cosa stai dicendo? Esce Casimiri che non c'ho capito un tubo, però onore al merito, ha fatto uno dei migliori partiti oggi? Ciao Paolo